Energia per il futuro, il tema scelto quest'anno per l'annuale Assemblea di Asso e Imprenditori Alto Adige. Sullo sfondo i primi timidi segnali di ripresa che si registrano in Italia e il confortante più 0,3% di PIL misurato nel primo trimestre 2015. Un dato al quale guardano con interesse anche in Germania. I dati del primo trimestre in Italia sono positivi, dimostrano che gli sforzi fatti negli ultimi anni stanno avendo effetto ovviamente la previsione di una crescita annua pari allo 0,6-0,7%. Non può essere considerata un traguardo dopo la crisi iniziata nel 2008. Il potenziale di crescita dell'Italia è ben più elevato, ma intanto quelli attuali sono segnali positivi. Nel suo discorso il presidente di Asso e Imprenditori Alto Adige, Stefan Pan, ha centrato l'attenzione sull'energia, ricordando i grandi passi in avanti fatti degli industriali sul tema del risparmio e della sostenibilità. Le fabbriche, ha detto, consumano meno energia di 50 anni fa, pur producendo un numero di beni 10 volte superiore. Per confermare questo trend e agevolare le imprese è però necessario, ha detto Pan, che l'energia sia garantita da reti di distribuzione all'altezza della situazione e soprattutto a un prezzo competitivo. Abbiamo bisogno di energia competitiva, non parliamo di energia a basso costo, non è quello che vogliamo, ma competitiva, paragonabile al resto d'Europa. In Italia, in Alto Adige, quindi paghiamo il 30% di più di energia di quanto non lo paghino i nostri concorrenti. In Austria e in Svizzera non parliamo della Francia. Di un'energia sicura? Abbiamo degli stabilimenti sempre più intelligenti, le macchine che comunicano l'una con l'altra. Un fermo di macchina ha delle ripercussioni che un non addetto ai lavori neanche riesce ad immaginare. Si ferma tutto e per far ripartire diventa un processo molto difficile, quindi diventa essenziale in un'industria che è sempre più dirigente avere un'energia sicura. Un plauso di convinzione forse inedita è stato rivolto dal presidente di Asso Imprenditori Alto Adige alla Giunta Provinciale e al suo presidente Arno Compaccer, presente in platea. Abbiamo in sintonia sulle necessità, abbiamo bisogno di cornici chiare per permettere alle imprese di correre e questo genera quella ricchezza che serve per finanziare lo stato sociale che abbiamo. Una politica economica buona e anche una politica sociale buona. E qui ci siamo trovati d'accordo, e non solo noi, anche le parti sociali.